Buonasera, sono Materna Stemi, non è capito, perché la Materna Stemi rappresenterà anche lei il cuore della Dina, un segolino del mondo. E Floriana rappresenterà la Dina, altri amici, che riguarderà i mirati di Marami e il Buonasera, sono Materna Stemi, mi trovo un po' di preparata, perché non so di dove fare una conferenza. Comunque, chi vuole? Questa è la tacea. Desidero dire che sono molto felice, molto orgogliosa di essere qui. Io sono nato di età con origini, di età, di estima e di metà, di una politica parte di padre, però sono 18 anni che sono qui e ormai sono stata adottata e mi sono innamorata di questa cittadina. Mi fa tanto piacere come scrivo dall'età di quando avevo 8 anni, da quando avevo 8 anni, poi per ragioni familiari, logicamente, tutta l'ascio, perché sono le tue passioni dell'anno, però adesso ho preso e quindi è dato anche lo spazio per poter riscrivere. Quindi ringrazio Angela e ringrazio anche questa associazione di essere qui e di far parte comunque di queste mie nuove radici. Grazie. Buonasera, buonasera, sono voi a Pinto. E anche io ringrazio Angela, ringrazio Elena, Flora e la tiglia, anche questo nomacini, per avermi dato comunque l'opportunità, l'omore, in qualche modo di far parte di questa grande famiglia di queste straordinarie iniziative che dei gesti tengono. e io disco meglio, come diceva Angela, sono molto spesso, mi trovo molto spesso a lavorare, a fare dei viaggi per il luogo e gli abitati arabi, quando io sono anche un artista, sono cantante, quindi porto la musica come dicevo l'altra volta, sono un po', è un mio piccolissimo, perché posso un po' appasciaggiare, quindi porto una cultura italiana, musicale, italiana, nato d'età, quando io sono parte europea, sono una figlia di Natalina, e quindi porto proprio una cultura parte europea e italiana, vincione del mondo, ma in particolar modo viene a trarmi con l'età pubblica a questa parte, e quindi in qualche modo farò un pochino, cercherò di vedere l'utile per fare un percorso in presso, portare la vita all'estero, alla mia vita, con tutte le sue iniziative, con i suoi e di mettere in contatto appunto, diciamo, i responsabili di questa associazione, di questa associazione, con degli artisti dati, quelli che possono essere artisti dati, un po' della quattiera del territorio. Io ho già parlato, ho già parlato, ho già parlato con la Presidentessa del gruppo italiano, della Linguamica, del gruppo italiano, Inquid, e ho già parlato con la professione, e poi lo studiando con il governo di Buon seleccionale, con il prezzo, di questo gruppo italiano, in cui wish me a che citare o no dove farò più cance per fare un po' della quattro ragione. Va bene? Grazie!